La scusa dell'anno ti vuole bene Life, pensa quanto ti vuole bene a te che ti scama sempre Pensa quanto mi vuoi bene tu invece Nico, grazie al follow, benvenuto fra i serpentelli Non è così male prendatore Ma hai ragione, sai che anche con le bocciate del clan tutti vedono le auree del storm intossicato? No, quello... Ah, quando urlano, dici? Sì, 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 sì È proprio l'urlo che è buggato Lo fa vedere a tutti per qualche ragione Sono riuscito a fare lit nel frame che stava per finire il potere E quindi mi ha dato libertà di movimento Fuck Nuove bug, che strano E l'ho detto, per questo non mi sono messo a leggere i bug fix Perché tanto ne sarebbero arrivati comunque degli altri Quindi che risolvono i vecchi bug per mettere in allie Che cazzo ce ne fa tutte, no? Nel senso Nel senso Non è male predatore, raga Col blight non mi sembra per niente male predatore Posso dirlo? Mi piace Per quanto può sembrare scam Nice Immagino che la nusca è per 10 ore ogni mezzo secondo a volte Ha comunque un cooldown, eh L'ho intravviso qualcuno lì, ma... No, mi ha dato il cielo su questo, mollato per primo Dai, ti prego, esci da sto cazzo di angolino di merda Ah, tanto off the record questa, forse Avrà di S? Prima rompiamo la pallet, però Prima rompiamo anche questa porta che non volevo rompere No, non ho di S, ok Mi aspetto di nuovo una rottura del gancio qui What? Alla Alla Niente, non riesco Sto sub è già la seconda volta Che dà un sacco di value comunque What the fuck's name Eh no Lo voglio loopare così No No Oh Vediamo per il Stanellino Dobbiamo chiudere per forza un chase Di uno di questi due e chiudere la kill Soprattutto su di lui Questo the dart è un po' fresco Però se ho usato the dart Vuol dire che non ho off the record Vuol dire che non ho niente Potevo allontanarmi invece di prendere l'hit Basta che mi giravo Mi sembra che è stato molto meglio prendersi la kill qua Però va bene comunque Ho giocato a metodo quindi non l'ho visto Che bug ha? Che bug ha l'artista? Che bug ha l'artista? La cosa buona è che il predatore non ti va in cooldown quando lo atterna Solo se perdi il chase Sabbo? Mi aspetto un sabbo quindi vado dall'altro Per essere sicuro Meno uno lo eliminiamo Ci mancano ancora due gen Che vado è quando non arrivo di tipo due centimetri Finito quello Oh salve Ho fatto un male cane Ma va bene Ho dato una manata fortissima sulla tastiera Ah non si è messo male action Due sono dead nuke Gen sono prettamente abbastanza vicini Facciamo un attimo anche saldo zero giusto per calciare Ho visto gli scratch per un secondo Meno male che Pure vedendolo sono riuscito a farmi fregare Ok Poi ci sono io che ho fatto la mega scioppata No davvero hai scioppato per sbloccare già tutto il pass? No signor Diaz Cosa mi combina? Guarda si è fixato Eh mi devi rimandare il link credo Uguale Ah devo solo ricaricare Com'è che si faceva? Ok L'opita in basso c'è ricarica la cassa Non so finisco qua e guarda Ciao Ciro bentornato Ciao 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 GG Si era rimesso a fare sto genio immagino Però chissà dove è andato Probabilmente sarà vicino a sta porta forse actually No si è curato l'avrei sentito Ah io lo supporterei anche di più però Quando riusciranno a farlo con meno bug eccetera Quando riusciranno a fixare un po' la situazione Tweeting Eh infatti è lì immagino Non è male Su che gioco è il cheating? Ah boh tipo di BD Mori è vero è vero è vero bravi Sono tornati si si Bravi che non l'ho ricordato mi dimentico sempre Ma crud è bagato perché quando sono squadri di 20 di volte Continua a bloccare la stile wind Si blocca la nuova wind ma sblocca quella vecchia in pratica Non so cosa voglia dire quello che tu abbia scritto Diaz Ha scritto qualcosa in russo Aha YX Grazie a tutti Grazie a tutti